eccoci eccoci qua signore e signori gentil donne e gentiluomini di tutti i tempi benvenuti ben ritrovati io sono fabio meson e questa è la meson potamia dopo aver completato i parapetti all'interno della casa della pietra ora mi sto dedicando ad illuminarla ho scoperto il modo di craftare appunto le barre del land e quindi siamo veramente a cavallo come potete vedere ne abbiamo tantissime per chi non lo sapesse le barre del land si craftano proprio aggiungendo frutto di ciò lo scoppiato con la verga di blaze tanta roba io non lo sapevo l'ho scoperto da pochissimo e quindi eccoci qua che ne sto proprio approfittando per illuminare la nostra struttura esternamente e devo dire che sta uscendo proprio un bel lavoro quindi tanta 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 roba prima di continuare ovviamente io vi invito come sempre a lasciare un like un dislike un commento un insulto attivare tutte le campanelline ma soprattutto ricordatevi di splendere ricordatevi di splendere mi raccomando è molto importante che voi continuate a splendere come non avete mai speso o splenduto o splento fatemi sapere qual è la forma corretta secondo voi che abbiamo avuto varie discussioni in merito molte discussioni in merito e qua ce lo facciamo così c'è chi dice che non si può c'è chi dice che c'è chi dice no c'è chi dice no io non mi trovo guinzaglio si lasciamolo ecco tu vedi a posto questo è il modo più semplice per recuperare il guinzaglio ma poi vi faccio vedere come farle ste barre qua eventualmente in una crafting table in maniera tale che possa rimanere impresso nei memoriali barre del land e come craftarle signore e signori eccoci qua facciamo subito discorsetto di questo tipo andiamo avanti è molto grande sta struttura che mi sta sparando qua a schifoso a schifosi quanti siete quando c'è uno dio caro ma vabbè ma ora mettiamo le barre qua su tanti e lì dobbiamo completarla la scoperta ma io avevo completata però vedi quella lì è la farm di creepers se non è sbaglio no questa è la farm di drone ed quindi rame tridenti e nautilus praticamente dobbiamo almeno metterci la scaffalatura ok molto bene almeno abbiamo un senso di completezza che ci porterà poi a cominciare veramente a portare i materiali anche perché ormai a magazzino siamo pieni per quel che riguarda appunto pietra e derivati continuiamo ad aggiungere cesto ma siamo veramente arrivati al limite anche perché c'è poi comunque gli scaffali le ceste hanno una portata da rispettare e noi sicuramente siamo fuori regola sotto quel punto di vista lì ora bisogna metterle qua pensavo di aver perso il piccone pensavo di aver perso il piccone pensavo di aver perso il piccone allora per prendere lo scalino fammi rimettere lo scalino al contrario e vai di blaze road che te salti fabio se non metti impalcature difficile che te salti vedi quante ne abbiamo craftate storia un po' come le torce per le torce usi uno di stick e uno di carbone qua usi una verga di blaze e uno di solus fruit che figata cazzo che figata dio sono alcune zone che mi piacciono di più altre meno devo dire però tanta roba fine buongiorno buongiorno caro popo soft buongiorno e grazie per avere tempestivamente risolto il problemino che avevamo avuto con il signor nessun Ezio che ha deciso di tornare giustamente dove si sta bene bisogno sempre ritornare no c'è bisogna si ritorna c'è poco da fare come va buon inizio di proseguimento di fine settimana di fine settimana anche lei sto illuminando sto illuminando sto illuminando esternamente il nostro bellissimo la nostra bellissima struttura la casa della pietra e lo stiamo facendo con le and road tutto bene consegna al libro rimango a casa per accogliere il corriere a braccia aperte speriamo sia una una corriera oddio una corriera adesso una corriera che magari io non vorrei mai trovarmi diciamo ad accogliere a braccia aperte una corriera ma forse un corriere donna forse anche si forse anche si sai che botta una carriera è un minivan sai che botta di obama che ti becchi ok va bene a parte le stupidaggini come va come va è in arrivo quindi consegneranno oggi immagino ok qua facciamo questo togliamo questo mettiamoci questi guarda quante barre dell'end che ho qua così dicono i 3 make mi sono arrivate stamattina ottimo ottimo l'ha vinto all'asta mi diceva, vero? eravate in tanti a partecipare sono state parecchie offerte allora buongiorno Antonio buongiorno, ben trovato buon sabato anche a lei no, a quel prezzo offerto solo io pensa a te eh, sì, sono tantini però alla fine oddio tantini non è vero, è tutto relativo alla fine è stata lei a decidere il prezzo di acquisto in questo caso qua cioè il non il prezzo di acquisto il valore di questo libro cioè alla fine il valore lo si dà in base a quanto uno è disposto a pagare un oggetto capito? quello è il suo valore eh oggetti particolari così alla fine sempre difficile anche quindi c'era una base di partenza che era quel prezzo lì sostanzialmente c'è qualcosa oggi in che senso c'è qualcosa oggi Antonio? che succede? in che senso? non capisco madonna quanto è lunga sta storia allora qua devo per forza metterne uno qua guarda il giorno oh tanti auguri carissimo mio madonna buon compleanno mi scusi se ne sono dimenticato che non la vedo troppo ultimamente quindi mamma mia tanti auguri buon compleanno Antonio finalmente compie dieci anni anche lei no? sto scherzando sto scherzando tanti auguri caro è già il 25 è già il 25 ma abbiamo già aperto qualche regalo? complimenti Antonio tanti auguri buon compleanno mannaggia a me che me ne sono dimenticato grazie 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 a lei sì sì no sì grazie nel senso ci mancherebbe anzi ho fatto una brutta figura in realtà solo che non avevo l'idea di che oggi fosse il 25 buon compleanno caro ne faccio 15 sì 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 stavo scherzando è ormai un ometto Antonio ormai un ometto abbiamo scoperto la sua base caro Antonio e l'abbiamo ovviamente saccheggiata ho scoperto anche dove aveva nascosto tutta la roba ho portato via tutto sappia questo sappia questo purtroppo sa com'è mi sono fatto prendere anch'io dal pirataggio quindi non abbiamo distrutto nulla ci mancherebbe ma 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 no sto scherzando in realtà sto scherzando non è vero niente no non è vero non è vero non è vero una la mettiamo qua abbiamo completato quasi il giro finché se ci abbiamo fatto il giro eccoci qua sì tra l'altro ero live già da un'ora però mi sono disconnesso e quindi eccoci qua eccoci qua nuovamente abbiamo sminchiato il volto quindi ripartiamo con un nuovo video una nuova avventura stiamo cercando di illuminare anzi cercando stiamo illuminando esternamente tutta la parte proprio relativa alla casa della pietra allora cosa abbiamo ricevuto come come regali caro Antonio se abbiamo ricevuto qualcosa perché non è detto magari è stato cattivo tutto l'anno ah ah impossibile impossibile allora qua mettiamo questo no so caduto caspita caspita errina vabbè poco male poco male così esco coi miei amici ho voglia di affetto carati amo mi sento confusa carati amo voglio stare un po' da sola carati amo esco dalla storia di Terani con un tipo carati amo non mi voglio sentire legata carati amo allora uniamo i nostri corpi nell'estasi suprema che è proprio nell'intingere l'amore no perché quando avevo 13 anni mio cugino mi ha fatto vedere ed allora sono traumatizzata però possiamo stare abbracciati tutta la notte senza fare niente sarà bellissimo lo stesso te lo tronco no allora chi indovina questa canzone ovviamente nei commenti voi potete tranquillamente scriverlo qua non lo leggerò copy strike su canale youtube no riceverà un autografo un autografo direttamente firmato da me ovviamente esco dalla storia di Terani con un tipo copy strike me lo danno i cosi non posso dirlo se no popo soft sicuramente conoscerà questo pezzo sicuramente tanti vestiti solo di mia mamma 150 euro di vestiti con lo sconto bravo però brava la mamma anch'io oggi voglio andare a prendermi qualcosa ma più che altro voglio andare alla decatron perché voglio prendermi delle robe nuove per fare tipo tracking camminate robe varie sicuramente un paio di scarpe sicuramente qualche maglia tecnica perché ne ho però insomma sai com'è c'è pure black friday in teoria viene anche lei popo soft mi farebbe un sacco piacere mi farebbe molto piacere allora mi pare che abbiamo fatto un buon lavoro abbiamo fatto veramente un buon lavoro sarà da illuminare anche sopra adesso vediamo un attimo sopra non sono per niente convinto del piano superiore qua però vabbè prima di sconnetterci ho terminato tutti i parapetti così ma devo dire che non mi stimolano per nulla intanto dobbiamo tutte le torce che ci sono speriamo non spawnino robe strane perché sono tutti slab qua non dovrebbe spawnare nulla ma sia mai cosa sarà difficile raga ma dov'è che venne sta luce sarà molto difficile senza lo sconto veniva 210 che cosa ha preso tipo felpe jeans cosa madonna che su ci sono i nostri amici bastardi quasi sentili sentili si sentite ci stanno attaccando qua manca un pezzo di vetro guardali oh e che fai non te lo fai un ride a gratis eccomano dov'è il mio arco hai capito questi in quanti stanno pure ma come si come si agitano ma che volete da me ma che volete voi qua io sto aspettando che lei mi riporti i miei beacon antonio mica c'è mica non so dimenticato eh vabbè facciamo sto ride dato che ieri ho buttato via due totem porco giuda per per andare a prendere il quarzo oggi è un vento assurdo oggi non so se non so se anche da voi qua c'è un vento veramente pazzesco finalmente anche devo dire così vengono spazzate via tutte le foglie che sono rimaste in giro vabbè stiamo qua facciamoci sto ride infatti oggi volevo fare un'altra piccola escursione però costaria qua cioè escursione stiamo parlando di passeggiata passeggiata un po' più sostenuta insomma camminata veloce questo vento porco giuda ancora più avanti ce li do ora lo posso entrare devo comprare pc fisso gaming completo ci vuole tempo ma come non può entrare ma non può neanche entrare proprio zero proprio no vabbè ma figurci non è che mi interessa per i beacon però ero più contento insomma se se potevamo ancora giocare assieme come i vecchi tempi ma quel pc lì non è riuscito ad aggiustarlo no non è riuscito per nulla ad aggiustarlo ci mettiamo un po' di blaze road anche qua dato che ce le abbiamo ah fa schifo proprio no non ce le mettiamo vabbè ci porteremo a casa un totem se non altro è la possibilità di vendere un po' di robe dato che sto riempendo la libreria di di cantesimi e servono parecchie risorse la nuova libreria forse Antonio lei non so se abbia visto la nuova libreria incantata e nemmeno la nuova fattoria sociale ha visto questo non mi interessa questi si ah quante blaze road blaze road si chiamano no barre dell'end eh vabbè si in inglese sarà no blaze sarà and bar and bar sono ancora un po' raffreddato si giusto un attimino sono prossimo allo smettere di fumare non so quando sarà il giorno ma siamo prossimi veramente a provare veramente a smettere di fumare sto giro eh ci facciamo questo regalo per Natale potrebbe essere interessante che dite quanti di voi hanno smesso di fumare fatemi sapere come avete smesso di fumare però ormai penso sia arrivato il momento di di farlo di farlo sarà il caso sarà il caso eh 800 euro sta quel pc lì adesso proprio soft quello che sto tenendo d'occhio che avevamo visto insieme uno solo disponibile è gente che ci vuole rincarare una vita proprio assurdo assurdo 800 euro invece il primo modello quello che mi aveva fatto vedere lei che è simile al suo mi sa che sta a 3,50 è passato da 420 a 3,50 vorrei farci un pensierino anche se non è un terabyte ma 3,50 è un ottimo prezzo per quello lì sì ci sto quasi pensando 800 euro facciamo uno fisso normale infatti non ha senso a volte certe occasioni vanno prese al volo però se non c'è la possibilità è solo per google non è fatto per minecraft appena scaricato minecraft già 10gb e poi va di nuovo lento mio papà dice non scaricare niente E posso giocare solo giochi di google 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 Glogloglogloglog Eh, sì Immagino Cioè, immagino Capisco, comunque Capisco È proprio un pc Diciamo, sì Mi diceva che è un portatile, giusto Sarà tipo un portatile Portatile, po' così allora stavo anche valutando di prenderlo a rate però mi sa che allora sì magari potremmo fare un pc normale però credo che a rate mi mi debbano chiedere il contratto tempo indeterminato che non ho che non ho e poi sai negli ultimi anni ho sempre voluto stare distante dalle rate a del 2007 porco giuda fatto i suoi anni ha fatto un bel po di del 2007 cosa ai windows che windows è che c'è dentro installato xp ma neanche e anche windows xp lei che ha preso il cos'è che aveva preso a rate lei su amazon poposoft il mac i mini mac le hanno chiesto il contratto tempo indeterminato per caso o gli altri dove stanno qua a eccoli sono un po incastrati c amazon non chiede contratti fa degli affidamenti affidamenti t che ti prende soldi mensilmente di solo essere un buon cliente porco giuda tutta la roba che ho preso su amazon ma chiunque altro chiede il contratto di lavoro per verificare il reddito si ma amazon si appoggia a cofidis giusto amazon si appoggia a cofidis cofidis non ti chiede nulla ma veramente aroso fa anche affidamenti diretti non c'è solo cofidis ma dai a io non le so ste robie ho provato a fare tipo pagarate c'era il discorso di pagarate con cofidis non so devo vedere o capire e quindi basta metterci la carta di credito le faccio uno screen di qualcosa che potrà acquistare a rate con amazon ma con amazon quindi non c'è scritto perché cambia allora paga rate con cofidis pagate con amazon non sapevo sta roba cofidis fa un credito di 1500 euro non mi ricordo il processo di approvazione ok beh buon cliente porco giuda se vado a vedere lo storico di tutta la roba che ho preso su amazon un cliente sicuro ma dai non sapevo sta roba ma si può fare anche con i pc secondo lei c'è con dettere solo con determinati pc forse cofidis cofidis non so neanche la pronuncia è rimasto un incastrato qua vediamo mica lo vado a prendere solo con determinati prodotti venduti direttamente da amazon ok ok c'è un sacco di particolarità cosa fanno gli altri giocatori in che senso ieri è tornato nessun ezio tra l'altro non so lei antonio se l'abbia mai conosciuto nessun ezio nessun ezio quel ragazzo che mi ha convinto a scaricare e a provare minecraft c'è senza di lui tra l'altro non sarei non avrei mai neanche mai pensato di giocare a minecraft tocca andare su qua beh trust sta costruendo robe come sempre tap sta continuando a fare il maledetto sapevo io sta continuando a fare il tribunale tap dopo soft si è fatto un esodo si è trasferito lontanissimo sta ricominciando da capo praticamente basta poi non che che è entrato ultimamente non mi ricordo mi sono esiliato per qualche momento ancora se ne stanno di questi bastardi e battere un po a posto in teoria l'evocatore è caduto non facci fuori l'evocatore eccolo qua maledetto ma no ancora ma come ancora questi se mi ammazzano il village siamo fottuti raga dai vattenna vittoria con mezzo cuore tra l'altro vattenna boe niente approfittiamo dai vendiamo un po di roba vendiamo un po di roba perché comunque ci servono un bel po di smeraldi e per comprare tutti gli incantesimi di cui abbiamo bisogno so che guardo mangico di twitch che è un saluto al volo buongiorno buongiorno a tutti come va molto bene molto bene ho terminato di fare i parapetti al alla casa della pietra l'ho illuminata pure esternamente adesso vi faccio vedere non sono tanto convinto del risultato cioè ovvero per dei per quel che riguarda i parapetti però vabbè qua basta seguire i punti forse torniamo a casa forse no mica tanto mica tanto vabbè tanto uh ecco ho capito dove siamo ho capito ho capito ho capito forse se vado di qua allora noi eravamo un po distantini eh no non ho capito dove siamo ma forse sì i punti vabbè che roba assurdo eh eccoci qua è il porto vecchio vicino alla sua zona sì non credo non credo mica eravamo a 6.000 qua ho finito anche i razzi mannaggia la puttanesca vabbè siamo arrivati guarda e voilà e voilà eh ma lo scopriremo lo scopriremo caro Antonio eh un altro lavoro che voglio che voglio fare è tipo creare una arcata qua cioè fare tipo tutta una roba fatta ad arco e chiudere sto poi non chiuderlo però fare tipo degli archi qua così poi vediamo come putrella questi dopo li finisco di togliere tutta l'illuminazione boh non ce la fa arrenditi se se come no basta che vado a trovare il video devo spulciare tutti i video ma basta che cerco i video che hanno come immagini copertina dove c'è anche lei Antonio e sarà veramente un gioco da ragazzi poi in realtà trovarla sicuramente allora come craftare le barre del land signori e signore ve lo faccio vedere subito non avete altro che bisogno di verghe di blaze e frutti di ciolo scoppiato e voilà che non funziona eccoci qua le mettete così e avete tutte quante le vostre barre del land molto molto semplice una cosa che ho scoperto che io da poco grazie a trust anche lui mi disse che l'ha scoperto da poco ed eccoci qua come craftare le barre del land in maniera più semplice possibile frutto di solus cotto scoppiato come volete come volete chiamarlo e barre di blaze molto molto easy molto molto easy eccoci qua mettiamo a posto tutto ah sì volevo farle vedere il lavoro trust però non è notte non è notte non è notte ieri sera ho sentito che ha che ha incontrato nessun Ezio vero trust l'ha trovato in teoria o quando è entrato lei era già era già uscito grande ritorno anzi ci ho detto c'era il video sono come faceva senza video però ancora deve vedere il video non l'ho visto a non l'ha visto ma dai ho installato un nuovo plugin che vi consente di ordinare le ceste in automatico ma dai come si fa aspetta che prendiamo un'acqua che figata è come si usa ma qua mi sa che avevo ordinato io infatti queste le ho ordinate io che figata niente ci fa come si fa ordinarle in automatico aspetta che prendiamo anche questi mettiamo tutto a posto credo di dover abilitarvi un comando che figata poposoft join the game benvenuto ben trovato meno male che ho fatto scattare sto ride così a caso proprio sono venuti allora prendiamoci i razzi faccio vedere un po' il discorso adesso andiamo da poposoft vediamo dove sarà tipo chissà dove nascosto allora intanto ho completato i parapetti qua sopra devo dire non sono per niente convinto assolutamente non lo sono però li ho completati vede tutti quanti ma non lo so non mi piace o devo provare a fare tutto il pavimento bianco in quarzo a lei piacciono sì a me no mi piaceva così ho messo lì uno ma tutti così non mi piacciono manca qualcosa secondo me manca veramente qualcosa e poi se facesse buio le farei vedere anche che ho illuminato tutto quanto è quasi buio è quasi buio attendiamo un secondo dei fiori infatti avevo pensato anch'io dei vasi però i vasi ci possono si possono mettere i vasi l'ho proprio detto prima sulle slab vede che ho illuminato tutto cioè tutto i punti giusti punti giusti ma si possono mettere ecco quello che potrebbe dare un po' di colore magari dei fiori ricercati che abbiano un senso tipo quelli azzurri bello molto bello sì non lo so non lo so devo illuminare il piano superiore con le end road qua bar non so però come c'è difficile beccare i punti giusti cioè andrebbero beccate secondo me messe dove volevamo mettere le colonne bianche comunque vede tutto illuminato a me piace molto è figo eh figo figo manca l'illuminazione interna però per quel che riguarda proprio il il piano superiore sicuramente vabbè dai approfittiamo andiamo a vendere un po' di roba dato che abbiamo lo stato di eroe del villaggio ci proviamo ho dato questo è più che sufficiente partiamo da qua dov'è che vogliono ferro questi questi qua tu ne vuoi un po' anche carbone compra questo già finito aspetta aspetta però qua ci abbiamo delle zucche mi sa che qualcuno compra anche zucche contadini contadini comprano zucche vediamo tu vuoi le zucche? no tu forse ne abbiamo gran pochi di contadini eh c'è veramente pochi ci sarebbero pure quelli per la farm di carote però tu vuoi carotina eh sì questo 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 compra carta o lastre di vetro qua oddio questo qua è buono come scambio in realtà questo potrebbe essere uno scambio interessante ma che c'è frega ma che cos'è che stava facendo trust con il colorante nero dai voglio vedere voglio vedere voglio vedere voglio vedere non so no questo si comprano poco però eh comprano veramente poco perché sto facendo sto lavoro perché è arrivato per caso sono arrivati sti schifosi di pillager ad attaccarmi e quindi ok provi a fare sort si dovrebbe aprire una guida che spiega tutto e abilita e disabilita le features allora sort wow chest salt setting automatic sorting disabilitato automatic source o chest barrels eccetera quando usate ma figo abilitiamo automatic inventory sorting automatic source you player inventory when you open it ma dai abilitiamo shift click sort of inventory using shift click on an empty slot ma dai sort of inventory using middle click on any slot slot sort of inventory using double click on your empty slot slot sort of inventory using shift right click on empty slot adesso riproviamo fill chest fill a chest fill a chest with matching item by left clicking outside the open inventory fill a chest with all items except your hotbar by double left clicking outside the open inventory si va un po studiata sta roba comunque adesso se io faccio così tipo aspetta com'è prendiamo a magazzino andiamo a magazzino proviamo subito tipo 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 qua che è aspetta 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 sort guardi use item ma dai non l'ho capita fabio vado torno dopo ciao a tutti ciao carissimo devo studiarmela un po' comunque grazie infinite grazie infinite ah me l'ha già messo in ordine vedi in automatico ha scelto un po' lui l'ordine però ma dai me l'ha messo in ordine già visto che roba che storia mi ha messo tutti gli attrezzi mi ha lasciato uno spazio vuoto poi gli altri li dobbiamo studiare bene eh che figata grazie mille infatti se io adesso faccio così se io faccio così lo cambia deve fare doppio che deve fare doppio clic su uno slot vuoto si l'ordinamento automatico lo toglierei magari è scomodo oddio dipende perché adesso il primo me l'aveva fatto giusto cioè giusto ma l'aveva fatto abbastanza carino poi decide sempre lui in effetti ha deciso lui e quindi facciamo così il sort disabilitiamo però non era male al fine cioè non è male come li mette però sì in effetti potrebbe essere un po' scomodo vedi preferivo come prima vabbè 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 studieremo anche questo ha grande popo soft bella 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 allora questo mettiamocelo qua va e questo qua dovrebbe fare dovrebbe fare sort dovrebbe avere una guida ok e invece questi non li ho capiti ah li ha messi già li mette già in automatico guarda che roba oddio mica tanto così ok basta fare così se lo faccio così se lo faccio così wow che figo li raggruppa li raggruppa la roba qualora non fosse allora io so che qua c'è un brutto una brutta cesta eccola qua vedi e voilà avete fatto degli acquisti col black friday io no io ancora no deve fare doppio click ok come fare aggruppare facendo doppio click tac vede facendo doppio click poi gli altri non li ho ben capiti però me li studio si trassa mi sono regalato un libro da collezione un iphone rigenerato piccolino da usare come telefono di riserva io ancora no però oggi mi sa che andrò da decathlon a spendere un po' di soldi per prendere altro materiale un po' di roba a vestire tecnica per le mie escursioni robe così e poi per il resto vado a risparmio vado a risparmio forse vorrei prendere un pc e non so però cioè sto valutando di prenderlo a rate con il discorso di amazon devo un attimo capire e basta poi cosa ho preso niente ho preso anzi ho preso un forno per mia madre e nient'altro bravo anche un forno ho preso io sì ancora devo comprare ah 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 come va il pc lo hanno riparato eh tra adesso Antonio le darà una brutta notizia purtroppo vabbè cosa devo vendere il carbone proviamo a vendere un po' il carbone ma che non vendo niente non vendo non vendo nulla permette a posto un po' come vuole sì in effetti aia 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 allora andiamo ad andare da mangiare no? ah no sai cosa dobbiamo fare oggi? eh eh dobbiamo fare questa roba qua dobbiamo andare a fare il macello dobbiamo macellare porco giuda me ne ero dimenticato dobbiamo macellare caspita eh sì queste macelliamo ovviamente eh eh sì è arrivato il loro momento purtroppo vede è pieno qua pensavo di piastrare tutto il mondo cioè togliere l'erba ma perché scusi? tutto il mondo poi non ho capito eh eh ho capito ne rimarranno solo due solo due ne rimarranno poi dicono che siamo senza carne siamo senza robe da mangiare mardecchè mardecchè sì è vero ma com'è vero se abbiamo un certo ma lei non ci va mai in dispensa abbiamo di tutto in dispensa di tutto e di più e voilà presto fatto sì io non posso giocare per ora più avanti quando mi coprerò il pc fisso da gaming ci vuole tempo dalla dispensa non si prende è vero anche questo è vero anche questo beh siamo pieni di cibo trust comunque ovunque c'è ragione però la dispensa non si prende visto come va messo in ordine le robe c'è già così sì carne di pollo ne abbiamo poca per farmi lì boh non capisco carne di pollo ne abbiamo veramente poca ma come la guardano i polli hai visto hanno paura hanno paura i polli no no ma che piastrellare tutto ma da che ma anche no mamma mia ho visto la tua foto sei troppo bello ti spompi nei grazie grazie mille molto gentile i conigli dobbiamo andare a prendere io sai cosa faccio uso la tecnica dei giovani qua faccio un ponte lungo tanto capito e ci metto le rotaie ci metto le rotaie faccio un ponte lungo tanto e ci metto le rotaie e vaffanbrodo capito com'è senza cibo siamo sì sì come no come no a parte che andrebbe riempita la dispensa in realtà c'è più che altro prima si riempie la dispensa e poi magazzino dovremmo esserci è come però bravo sei uguale faccio un allevamento intensivo va bene non vedo l'ora di vedere il suo allevamento intensivo allora carne carne ho pensato di fare tipo 20 farm ciascuna da animale dentro il mega hub veramente non vedo l'ora allora la lab trust al trust hub allora tu sta qua qua beh oddio siamo pieni qua eh così cioè siamo pieni oddio di manzo siamo pieni non di altro però allora sai cosa ti dico queste qua le mettiamo a cuocere queste qua le mettiamo a cuocere poi le portiamo qua bravo trust che ci ricorda ovviamente che la dispensa non si tocca solo che qualcuno dovrà dargli sempre da mangiare sì cioè alla fine chi chi entra in gioco secondo me dovrebbe avere l'obbligo come prima roba di dar da mangiare le bestie lei stesso c'è tutti quanti quando entriamo diamo da mangiare doveva fare un libro delle regole sicuramente qua avevo messo a cuocere della pietra un po' di robe molto bene dai cuociamo queste ho addobbato il forno ho visto che ha fatto anche la porta è stato molto che bravo proprio molto carino pergoletta fuori bravo andiamo a cuocere sta carne e poi sai cosa facciamo dato che abbiamo ancora una mezz'oretta un posto già il il posto il discorso per portare i villager in cucina e per iniziare a portarli anche dall'altra parte perché lei ha fatto un passaggio ha cementato anche dietro vediamo ecco cosa ci ha fatto quel colorante nero lo sfondo fatto lo sfondo qua io volevo forse io volevo fare lo sfondo invece ciano dove lei ha fatto la dedica a mango ecco li portiamo oggi pomeriggio insieme se vuole ok volentieri come un nuovo sottopasso perché qua lei ha fatto sottopasso in realtà non è qua non è qua però da qualche parte lei ha collegato il discorso dei villager però è difficile portarli da là a dove voglio anche anche solo da lì alla cucina dov'è che li ha collegati qua ho visto che aveva fatto vede però da qua è difficile può portarli bisogna bucare tutto la hub ma finirà le frecce quel cornuto no bisogna bucare qua bisogna un attimo capire io preferisco fare aereo aereo il discorso a sinistra non è difficile da qua vabbè poi lo vedremo ah vero sì in realtà ah ma dai è che devi togliere tutti gli scalini per permettere ma c'è la ragione pure trust devi togliere gli scalini mettere i pezzi di terra in memoria i nostri amici che erano come umani poveri maialini poveri maialini lo faccio io allora mega farm allora in costruzione bene 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 ottimo e chi si preoccupa chi si preoccupa i tappeti sì io faccio così voilà guarda come si ordina tutto bene bene figo figo sì di rotaie siamo pieni infinite rotaie e poi già che ci siamo li porto anche da sta parte qua vede portiamo qua nelle casette varie magari oggi pomeriggio ne costruisco un paio ancora e dobbiamo portarli dentro qua dei villager se no però qua c'hanno la porta loro se aprono la porta ed escono quindi bisogna intrappolarli e basta fine salve ho voglia di giocare a minecraft maria eh lo so antonio ce lo so immagino ma è una nuova versione minecraft maria che non conosco sempre intrappolare eh sì a meno che non ci mettiamo un letto così eh no ma loro dopo beh sarebbe figo metterci un lettino solo che è brutto è brutto vedere un letto lì sul posto di lavoro qua lei vuole fare tutte farm Dio caro auguri auguri ai figli maschi qua siamo messi qua con le bistecchette quante ne ho messe? vabbè attendiamo un secondino sì così dormono a lavoro eh vabbè ma so brutto cioè è brutto da vedere capito poi su mercatino di natale come pistonano sì la bomba è un po lentino però vabbè lo stesso dai se lo facciamo andare bene eh che vento che fa ho c'è un'aria assurda io non mico il cavolo che vado a camminare oggi sai cosa faccio intanto? andiamo a vendere un po' di carote quanto manca? 15 minuti dai facciamolo andiamo a vendere un po' di frutta e verdura qua queste sono le farm che funzionano vedi? no siamo senza cibo vieni qua vara siamo senza cibo oddio mica tanto son tanto senza cibo comunque carote 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 basta fine ci vuole un mercato ortofrutticolo sì infatti sarebbe figo allora tu compri le carote madonna così pochi me ne dai ok basta fine rape niente? le rape il tuo compagno di qua forse esatto sì ma no mercato ortofrutticolo in mezzo al cemento mannaggia lei ok ma gli vende le carote che lui stesso ha coltivato? certo che sì questa si chiama economia circolare non ho mai approfondito il tema caro trust patate potremmo fargli fare però piuttosto vabbè fa niente eh 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 economia circolare allora salve ma nel senso proprio circolare se avete qualcosa da dire circolare truffe di prima categoria eh cari ancora ancora non mi conoscete voi ancora non mi conoscete le pozioni le abbiamo un po' abbandonate non abbiamo una vera e propria area per le pozioni un un magazzino per le pozioni ci manca eh ma da che ok 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 intanto abbiamo fatto uno stacchettino altro ancora di qua ho lasciato del qualcosa per loro se c'è roba niente che bellino vedere ogni tanto gli animaletti liberi cioè è bello vederli liberi anche anche liberi di questi qua che comprano il ferro ce ne servono tanti a sto punto eh sì a sto punto del gioco e vabbè vediamo se abbiamo qualcosa qua da dare aspetta forse il filo aspetta il filo l'avevo messo qua poco dato che ci passiamo truffe di prima categoria sì devo iniziare a organizzarmi io per non usare tutto il teletrasporto eh sarà dura sarà molto dura però vabbè se io faccio così mi ordina tutto vede ottimo ho della carne marcia per caso stoccata qua 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 no qua forse neanche diamo un po' di ferro al nostro amico qua certo che ne prendono proprio poco eh c'è cioè siete avarissimi col ferro e anche una roba che voglio fare è andare lì dove abbiamo la farm di pietra manuale e prendere tutto il carbone che c'è praticamente per forza sei minuti sei minuti abbiamo eh poi i nostri amici stanno bene sei minuti che cosa posso vendere? l'ano no anche no ah no cosa devo andare a vedere la carne qua come è messa qua dove stanno dove erano cioè dove sono Maria Giuseppe ha fatto anche le entrate che bello manca un coso a me solo per per addobbo fatto un forno che bello eccoci qua la carne allora come carne di mucca siamo a posto penso per un po' oddio l'abbiamo riempito la dispensa dobbiamo riempirla tutta in realtà c'è poco da fare eh oh carne di manzo pane come si è messo male proprio zero proprio zero pane zero pane qua eh il grano è sempre un poco così sì natural fare un pane vado e lo vende carlo lo copri da lui che ne ha tanto carlo chi? conti? carlo chi? io non so chi sia carlo sametto sametto è giusto? ecco ne abbiamo poca zero praticamente sì ok ma quanto ne ha? c'è tanto o così poco? vicino al teatro beh ma quando entrerà glielo chiedo se mai maiale cotto anche se ho messi male eh si ho messi male pesce ne abbiamo zero pollo pollo cotto poca roba e crudo meno che meno coniglio qualcosina c'è qualcosina abbiamo vado a guardare c'è la bancherella vicino al teatro ma dai si è spostato ma è quello che aveva fatto la bancherella vicino al villaggio di natale è la stessa persona bene bene tutto sto parlare di maiale mi mette fame anch'io c'ho fame infatti adesso vado a prepararmi qualcosa tra poco no vado a prepararmi una carbonara mamma mia buona carbonara caspita ah non è lo stesso ma dov'è la bancherella qua? ah è qua questa? panetteria da san carlo 120 256 panini un diamante 128 panini 24 di ferro si prende da sopra si paga sotto panetteria san carlo va bene ma cosa me ne faccio di tutto sto pane? cioè è poco non ce ne facciamo nulla buongiorno Mary J buongiorno buongiorno a lei comunque si glielo facciamo sto scambio dai inauguriamo sta bancherella lui dice 128 pani 24 di ferro ma volentieri 64 128 24 guarda facciamo che gli facciamo una sorpresa panetto panetto si chiama panetto l'ho chiamato panetto adesso facciamogli una sorpresa panetto gli stra paghiamo il pane nuova apertura glielo stra pago quel pane lì no non è che glielo stra pago adesso gli lascio un cartello avanzo del pane no 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 avanzo niente dai panetto e questo è un mix tra sametto e carlo praticamente ho fatto un casino gli dia qualche diamante no i diamanti non gli do pozzaro diamanti si prende sopra e si paga sotto ecco qua ha fatto ecco fatto voilà sono rimasto sconvolto ieri sera medicei ad ascoltare i suoi podcast veramente oddio ho ascoltato la storia lì di del russo poi la storia di gandhi robe veramente bruttissime sconvolto sono io glielo dia lei diamante io no non gli do diamanti se dà la possibilità anche di usare il sferlo scusa madonna ma che ho? ben dio ho un solco in testa ho un solco in testa ma che cazzo è sta roba ho preso una botta qua ma ho spaccato l'osso ma dove l'ho presa la botta ma che è sta roba aspetta chi sei gandhi gandhi è quell'omino lì che ha era stato nominato gandhi che ha fatto l'olocausto dentro l'olocausto la storia successiva quella di di anatoly forse ho capito male io quando ho chiesto al bambino di ciacciargli la lingua gli dia anche qualche diamante comunque mi fa piacere obiettivo raggiunto ah si ah ok giusto si quello di winnino esatto si scusa un attimo io ho una maccatura in testa me ne sono accorto adesso che è molto è molto strana vabbè non importa c'è una finta di niente rifuciliamo con un po' di pane ancora poco sto pane biscotti pure ne abbiamo un pochini lei ha sempre la fregna in testa si no è proprio fatto ha proprio a fregna senti qua ah senti senti è proprio una mini una micro di quelle robe là ma non me l'ho mai accorto forse la cuffia il non so cosa mi ha possa essere ma ha mancato eh e vabbè poi ho letto anche ho iniziato a guardare il documentario che mi ha inviato relativo ad anatoly e però vabbè oh poi ho guardato il libro ho trovato l'inserzione beh ma per l'età che ha sembra perfetto eh si lo sta attendendo con con ansia e non vedo l'ora speriamo non buchino la consegna me l'ho mandato la mail per avvisarmi che sono in consegna oggi ma sì se ne hanno cioè se sono affidabili poi a fine mi sa che ha fatto anche tipo corriere consegna assicurata va benissimo se non è oggi sarà domani ah stiamo lavorando Mary J o comincia alle due non mi ricordo vediamo se abbiamo finito di cuocere la carne l'antica forneria popo soft che si cala dalla finestra con la funetica o miss impossible mi sta pare il pacco dalle mani di corriere sì portiamo a casa anche questa profitto per sistemare le collezioni di one piece oggi così metto in ordine tutte le carte nella scatola di cartone io sto iniziando a vendere un po' di roba anch'io adesso ancora devo fare budget fare budget allora pietra liscia qua ma ce n'è ancora di spazio volendo è comunque che figata che li riordino a tutti così proprio ben fatto popo soft oggi ho ferie quindi sto facendo biscotti da portare delle mie amiche che pomeriggio vado a fare un po' di prove con loro ieri mi sono messo a guardare qualche ricettina per fare i biscotti mi è passata la voglia volevo fare dei biscotti integrali e dopo un paio di ricette così ho detto ma vaffan brodo va tocca star lì far la frolla non c'è mica più voglia io di ste robe carne di manzo di maiale vediamo carne di maiale come si è ammesso questo è un casino questo è il cassino a volte qua le pecole escono eh una donna da sposare dice eh si proprio perché solo perché fai i biscotti ma dai ma cosa dite ma cosa dite eh boh fare i biscotti non è complicato ma laborioso porta via un monte di tempo eh lo so lo so abbiamo fatti a quintali di biscotti in vita mia purtroppo anche mini biscotti micro biscotti proprio da caffè proprio soprattutto bello dio ne abbiamo un po' di maiale mettiamo a cuocere certo che sì certo che sì ecco la cosa messi male però un paio possiamo metterle a cuocere non mi vedi fammi vedere il pollo mettiamo a cuocere questo i panni ripieni mamma mia non me ne parli anche perché non voglio proprio evitare il pane lo voglio proprio evitare allora mettiamo a cuocere questo un bel po' di pecora un bel po' di pecora un bel po' di maiale vediamo se abbiamo del guanciale per la carbonara di popo soft guanciale niente guanciale per oggi eh un vero peccato ma quanto buone sono le guancette di maiale mamma mia mamma mia cosi ma quanto buone sono le guancette di maiale che fame belli biscotti piccoli con quella finestra temporale di 7 secondi tra il crudo e bruciato brava esattamente 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 e si serve un po' di pazienza e tanta attrezzatura però ma anche neanche bisogna essere sempre lì eh bisogna essere sempre lì vabbè lo stato di eroe del villaggio ce lo siamo giocati il nostro l'abbiamo fatto vediamo se possiamo dar da mangiare abbiamo da mangiare le perle facciamo un altro giro di di cibo e via e poi ci salutiamo ci ritroviamo oggi pomeriggio verso le boh 15 16 potrebbe essere un'idea potrebbe essere un'idea quindi diamo da mangiare le nostre pecole è arrivato grande grande secondo me si sta un po' emozionando anche il popo soft all'arrivo di questo libro eh devo dire la verità è emozionato poi quando aprirà il pacco è perfetto è già aperto già aperto wow è intrin intenso intonso ho anche pipino duro no beh mi fa piacere fa piacere come funziona qua la farm di polli come va come va ma vedi che cadono giù le pecole ma perché cascano le pecole secondo voi è bagato qua è tutto bagato è rotta la farm di pecole o son troppe è rotta la farm di pecole non saprei non ne ho idea ottimo lavoro ottimo lavoro sì complimenti complimenti per l'acquisto soprattutto se per lei ha un significato molto profondo anche bravo 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 queste piume non ne faccio nulla di queste piume ah però qualcuno compra le file piume dobbiamo fare una mega hub di scambio ancora qua altro che mamma mia la piume che ho lasciato che aspettate anche questa ma possibile che ci sia un problema con la farm di pecole sembra strano vabbè fa niente lo dovremo scoprire però eh sono troppe forse non uccidiamo qualcuna io qua non ho tutte porco dio ma non ho tutte aia 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 qua tocca bestemmiare contrast trast trastamo uccide stavolta dai vien qua vien qua trastamo ammazza soprattutto per non avermi dato del ritardo per averlo comprato del ritardato no che è che caro che bello ottimo lavoro soprattutto per non avermi dato del ritardato per averlo comprato vuole vedere il mio armadio dei profumi popo soft ciascuno ha le sue droghe ma lei colleziona profumi Mary J ma che bello mandatemi mandate sul gruppo quelle foto lì delle vostre collezioni così mi consiglia che profumo un profumo da uomo ha venga signorina qua qua vabbè fa niente ho fatto il disastro di oddio disastro qua qua wow vai vieni dentro . che disastro ne Android vabbè fa niente c'è fa niente devo sistemare per forza no tantissimi perché lavoravo in profumeria di nicchia ma dai ora sto consumando quelli che ho consigliare a distanza e tosta è anche perché sono tanti anni che non ci lavoro più fatto un casino ho fatto un casino madonna vabbè io stavo quasi per compiere 350 euro per una boccetta di profumo tipo un mese fa e poi per fortuna ho lasciato andare ecco il profumo sono mi ricordo neanche più la marca però da uomo quello con la boccetta tipo rosso scuro è una figata c'è me lo ha fatto assaggiare un ex collega mamma mia però 350 euro finito il mio vecchio che non mi piaceva molto ma gli danno ancora i campioncini nella profumeria però l'idea di massima se volete un buono buono andate a dedicare un'oretta giro in profumeria di nicchia gli sconsiglio i profumi da circuito normale quelli che si trovano da sefora per dire io caro copri un cazzo i pc infatti infatti ottimo serie proprio andato delle grosse catene anch'io avevo voglia di fare un giro da sefora dal tra il sabato scorso non sono neanche entrato proprio non mi interessa proprio vaffanculo non mi interessa comunque la marrone non si ma sì sì anche la marrone si può copiare con la bianca posso consigliare marche come dp tic fredic mail e lorenzo villoresi villoresi non conosco non conosco a posto ok a posto andiamo fuori torniamo dove abbiamo fatto il macello praticamente ma un macello proprio nel vero sesso del termine della parola due ne sono rimaste giustamente o quando è pieno noi veniamo qua saccheggio 3 e siamo a posto anche qua ce ne sono andiamo a mangiare che macello che ho fatto con quella spada di non pensavo non pensavo proprio non è la mia intenzione più che altro non fatevi incantare dalle chiacchiere di chi li rende perché nelle profumerie di nicchia è normale raccontare favole beh certo che si acquistiamo favole noi mica prodotti spiegate che famiglia effettiva volete fuga speziato talcato eccetera e assaggiate tutto mamma mia che ottimi consigli che abbiamo stamattina altro che già che ci siamo tornando indietro guarda facciamo anche sto lavoro qua dopodiché ci salutiamo il mio disastro quotidiano l'ho combinato distrutto una farm di pecore distrutto generali portarci le pecore farò dare una mano da qualcuno mi farò dare una mano da qualcuno magari sti uccellacci non mi stanno lasciando in pace ultimamente vi faccio vedere va beh faccio vedere l'effetto notturno dell'illuminazione che abbiamo dato alla casa della pietra la casa della pietra pure è stata illuminata vedi te vedi lei vedete voi con questo io signori vi do appuntamento ad oggi pomeriggio intorno alle 15 intorno alle 15 vi ringrazio per la presenza vi ringrazio per le chiacchiere vi ringrazio per i consigli noi ci vediamo presto ricordatevi di iscrivervi al canale lasciate like dislike commentate soprattutto insultate condividete con tutti i vostri amici in maniera tale che possiamo crescere di livello anche perché qua a breve non appena raggiungeremo i 500 iscritti ricordatevi che non utilizzerò più il teletrasporto ricordatevi di splendere buona giornata anche a lei cara Mary J buona giornata a Popo Soft ciao Trust arrivederci a tutti ci vediamo presto buone cose buon sabato buon pranzo e ricordatevi di splendere arrivederci arrivederci e grazie buon sabato